Eccoci al termine di una partita importantissima e bellissima, abbiamo con noi la centrale Ferrari L'aria e la schiacciatrice Gasparini Sara, che ci dite? È stata una partita intensa, abbiamo dato tutto, siamo felici di aver dimostrato quello che sappiamo fare Sara, è stata una partita più bella o più importante? Più importante però anche molto bella dal punto di vista del gioco che abbiamo fatto e siamo fiere Ok, vi ringrazio entrambe, ci vediamo settimana prossima, mi raccomando, ciao!